La dichiarazione, finalmente con tante fatiche ce l'abbiamo fatta, grazie ai ragazzi che sono stati meravigliosi, si sono allenati con stanza, vento, freddo, alcune volte il campo era un pantano e si sono stati allenati, ogni volta c'erano 25-30 ragazzi. Quindi grazie a loro e grazie a quelli che ci hanno sostenuti perché portare il tempo a fino a un campionato ci vuole anche di eseguire, grazie ai signori che ci hanno fidanzati e alle ditte non ci dite, la ditta Scaccella, la ditta Consorzio Universitario, la ditta Tanino Sturiale, forse è diventato qualcuno, la ditta Straduzzo Visitano e qualcun altro. Comunque grazie a tutti, grazie ai ragazzi e al meraviglioso pubblico che da tanti anni non si vedeva più a Scaccella. Grazie e tanti auguri ai nostri ragazzi.